Mi chiamo Jean-Louis Durand e sono un studente laureato in relazioni internazionali che attualmente è in cerca di un impiego. Ho scoperto l'Accademia Barban tramite un annuncio su internet. Ho scelto di frequentare il corso barista accademico perché ero curiosito dall'opportunità di poter apprendere le tecniche di base di questo mestiere. Ho imparato i fondamentali di questo mestiere dalla montatura del latte alla produzione dei vari tipi di caffè, oltre a poi anche dei vari altri drink e cocktail. Penso che sia un'ottima Accademia per chi anche come noi partiva proprio dai fondamentali, da zero, ma la consiglierei anche a chi invece ha parte già da un punto di vista un po' più elevato e voglia semplicemente perfezionare già le proprie tecniche.